Amici di Antivy, buonasera e benvenuti ai commenti posternana Empoli 1 a 1, iniziamo con Francesco Petrelli, buonasera Francesco, arriva un 1 a 1, visti i valori dell'avversario insperata e più alla vigilia, ma soprattutto molto positivo, io direi, vista la prestazione in campo della squadra. Ottima partita, alla fine poteva succedere anche di portare a casa i tre punti, comunque nell'arco dei 90 minuti sono state azioni sia per entrambe le squadre, quindi direi che è un punto di valore e di qualità. Ai punti probabilmente avrebbe meritato di vincere la Ternana complessivamente, è vero anche che l'Empoli poi nel quarto d'ora finale ha preso una traversa clamorosa, quindi direi un 1 a 1 sostanzialmente giusto e che fa onore la squadra di Mister Pokesci, visti i valori in campo. È stata una squadra aggressiva fin dai primi minuti, già sapevamo che fisicamente la Ternana stava meglio dell'Empoli, quando Finotto ha sbloccato l'incontro potevamo subito raddoppiare nell'azione successiva, poi abbiamo sofferto alla fine del primo tempo, nel secondo tempo Mister Pokesci ha rimiscolato un po' le carte, la Ternana è andata molto bene, ha sofferto un po' nel finale, comunque direi che alla fine, come dicevo precedentemente, l'Empoli poteva portare l'intera posta in paglio a casa, come lo potevamo fare noi. Un ottimo esordio che dà morale e fiducia anche per tutti gli esordienti che oggi erano in campo. Ci sarebbe tanto da raccontare e da analizzare, purtroppo i tempi ce lo consentono relativamente, perciò ti chiedo prima di tutto, visto che sono andati tutti bene i rosso-verdi oggettivamente, se c'è qualche individualità che ti ha colpito in maniera particolare. E poi ti chiedo in secondo luogo di analizzare un trend che secondo me si è visto molto bene durante la partita, ovvero nelle prime parti delle due frazioni la Ternana anche fisicamente molto bene e poi un po' una fase calante a partire da metà seconda e primo tempo in poi. Beh diciamo che è il refrain che già è successo nella prima partita col Trapani, i primi 20-30 minuti la Ternana corre molto e poi scende molto di tono, nel secondo tempo ugualmente si è riproposta la stessa scena. E forse paradossalmente secondo me un po' meglio nel secondo tempo che nel primo. Beh nel secondo tempo comunque ha cambiato anche parecchi giocatori, secondo me anche quello è stato importante, non tutti i giocatori sono già in piena forma fisica, a me è piaciuto molto Gasparetto, ha giocato molto bene Finotto, Tiscione, anche Tremonata si è avuto poche occasioni nel secondo tempo perché comunque è entrato molto bene se vede un giocatore di categoria. Io direi che la piena sufficienza oggi l'abbiano presa tutti e credo che comunque sia l'inizio, quindi la squadra deve crescere di più sia come tenuta fisica e sia come volontà in campo perché sono giocatori che comunque ricordiamo che parecchi erano la prima esperienza in Serie B contro una squadra di categoria. In conclusione un plauso anche ai quasi 5.000 deliberati per una bellissima serata a 360 gradi. Beh diciamo che gli abbonati abbiamo visto che siamo saliti quasi a 1.900 ed è il miglior risultato del 2003, ci aspettavamo forse anche qualcuno in più allo stadio perché comunque prima di campionato una squadra tutta da conoscere. Però bella atmosfera. Bella atmosfera però speriamo che la Ternana si proseguirà con questo gioco e comunque i risultati arriveranno, credo che il pubblico si riavvicini a Liberati. Grazie a Francesco Petrelli. Devi sottoporti a risonanza magnetica? Affidati allo studio di radiologia Braconi di Terni. Da noi trovi la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, unica nel centro Italia. Le bassissime emissioni dei nostri macchinari sono ideali in campo pediatrico e per donne in età fertile. Fai qualche chilometro in più per molte radiazioni in meno. Prenotazione in 24 ore consegna dei referti immediata. Studio di radiologia Braconi a Terni in via Pacinotti 8, zona Piazza Tacito, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Siamo con Gigi Marini. Gigi, direi una serata e forse una sorpresa piacevole sia per quanto riguarda il risultato che soprattutto per quanto riguarda la prestazione della Ternana. Beh, io direi molto bene, non bene, molto bene, molto meglio di come forse temevamo. Diciamo che la prima partita si dice sempre un incognito, può accadere di tutto. La Ternana però l'ha interpretata molto bene fin dal primo minuto, anzi direi che i primi venti minuti ha dominato, forse meritava anche qualcosa in più. Poi abbiamo un po' sofferto nella seconda parte del primo tempo qualche loro ripartenza, ci può stare. Io direi che per come è andata la partita una vittoria ci poteva anche stare, però considerato anche il valore dell'avversario il punto può andare. Ripeto, rispetto a qualche settimana fa la Ternana ha fatto un grosso salto di qualità. sia per l'arrivo di due o tre giocatori, anche quattro direi, che hanno un po' cambiato il volto, insomma parlo di Finotto, parlo di... Aspetto alla partita col Traffoli insomma sono cambiati verso Gasparretto dietro mi sembra che già pur arrivato da poco possa dare una mano. Poi c'è Vitiello che stasera non ha giocato, ma lo stesso Tremolata quando è entrato ha dimostrato di valere sicuramente dal punto di vista tecnico. Poi insomma lo vedremo, anche lui è arrivato ieri. Direi che con un centro avanti la Ternana ha la possibilità... Parlavamo dopo la partita col Traffoli di otto arrivi, mi pare che ne siano arrivati cinque, è partito Meccariello, secondo me dobbiamo prendere almeno un centro avanti. Secondo me pochi ne parlano, ma un portiere di riserva sarebbe fondamentale perché se il portierino ha qualche problema o è convocato in nazionale dietro forse siamo un po' scoperti, però direi che rispetto alle gravi lacune che abbiamo riscontrato contro il Traffoli con quattro arrivi di categoria più secondo me un altro paio ne devono arrivare siamo arrivati ad essere competitivi. Poi stasera più che competitivi siamo stati veramente una squadra sorpresa perché penso che le loti si siano sprecate da parte di tutti. La Ternana che magari tecnicamente come valori sulla carta valeva molto meno dell'Empoli però ha giocato molto bene e ripeto probabilmente se una delle squadre doveva vincere era sicuramente la Ternana. In più è da lotare che non è che ha preso un punto partendo 20 minuti e poi mettendosi a difendere, ha giocato quasi tutta la partita per vincere il che è un'altra cosa molto buona. Devo dire, ho degli amici che se mi riferiscono una cosa in genere io mi aspetto che sia vera e devo dire che questi che mi hanno detto che Pochesi con tutti i suoi difetti dà la squadra una sua impronta e un'impostazione di gioco valido devo dire che mi era stato detto più volte durante questa preparazione e stasera si è visto perché la Ternana adesso come valori tecnici e come campionato che farà secondo me è tutto da vedere però un'impronta di squadra ce l'ha. Forse rispetto alle prime partite dell'anno scorso da questo punto di vista secondo me pare meglio poi dopo ripeto abbiamo ancora delle lacune per esempio stasera grande mole di gioco poca finalizzazione forse con un centro avanti sarebbe cambiato ecco però no per tanto per dire pressing alto sugli avversari diciamo io direi quasi soffocante sul portatore di palla soprattutto sull'azione degli avversari che parte dalla difesa questo si è visto e lo hanno detto anche i giocatori allenatori dell'Empoli che abbiamo sentito prima. Ci sarebbe tantissimo di cui parlare intanto ti farei un attimo riflettere sul centro campo perché la metà 3 con Defendi che ha dovuto dare forfea all'ultimo minuto comunque ha funzionato Paolucci ha recuperato tantissimi palloni e è comunque il cervello in mezzo al campo Angiulli che comunque seppure sia un arrivo recente partiva un po' più in sordina rispetto magari agli altri grandi nomi per me stasera è andato molto bene Varone che magari qualche occasione ha sofferto un po' di più però ha messo l'assist perfino 8 che poi 30 secondi dopo poteva chiuderla la partita perché sul 2 a 0 dopo 17 minuti secondo me per l'Empoli sarebbe stato molto complicato riprenderla. Beh intanto grandi nomi non ne abbiamo abbiamo nomi adesso per la categoria e tanto per dire secondo me Paolucci è stato uno dei migliori gli altri due Angiulli non proprio il migliore in campo Varone sta dimostrando di partita in partita di valere la serie B è un giocatore che in serie B non si è mai facciato ma secondo me sia come valori tecnici sia come forza atletica è un giocatore che può giocare tranquillamente in serie B forse stasera non ha giocato la sua migliore partita però come dicevi tu bellissimo l'assist per finotto e altre belle cose è un giocatore che può fare e è una sorpresa tranquillamente il titolare in serie B secondo me in quel ruolo d'interno così come lo schiera Pogesci. Ecco è tremolata si è fatto subito valere nel quarto d'ora in cui è entrato nonostante ciò Tiscione che comunque si affaccia anche lui la prima esperienza in serie B seppur maturo stasera secondo quasi tutti è andato molto molto bene forse anche questa è una sorpresa appunto di questo debutto in campionato. È andato bene Tiscione ho sentito il migliore in campo Sky per me il migliore in campo Sky nonostante le due occasioni che non ha concretizzato è stato Finotto perché mi pare il giocatore che davanti può fare più male ha fatto a parte che ha anche segnato il gol insomma quindi secondo me il migliore è stato Finotto però Tiscione lì si è di essere spesso più apparescente che sostanzioso però insomma staremo a vedere certo questa Ternana se si conferma con questa come ti posso dire a parte caparbietà nel pressare gli avversari ma inoltre voglia di attaccare per quasi tutti i 90 minuti anche in trasferta potrebbe essere una bella sorpresa è chiaro che fuori casa a Salerno non è come giocare a liberati contro l'Empoli che è una squadra che magari ancora si doveva assemblare è una squadra che oggi diciamo noi non avevamo nulla da perdere è chiaro ripeto che fuori casa vedremo la riprova di quel buono che abbiamo fatto stasera In conclusione non so se vogliamo cercare tra virgolette il pelo dell'uovo comunque di un'ottima serata ma io penso che sulla fase difensiva soprattutto in transizione visto che si attacca molto alti c'è ancora molto moltissimo da lavorare abbiamo parlato anche con Poghesci di questo calo che è sempre avvenuto appunto nelle due frazioni dopo la metà appunto del tempo lui si riferisce più a un problema magari mentale o di braccino che è un problema fisico nel tuo punto di vista su questi due elementi? Beh sinceramente io questo non lo posso sapere sicuramente l'allenatore lo sa meglio di noi quello che dico è che non si può giocare 90 minuti in quel modo quindi ci sta che magari un quarto d'ora sia nel primo tempo che nella ripresa un pochino cali quello invece che io tengo a sottolineare se proprio dobbiamo non trovare una polemica o una critica ma un'osservazione è che il buon risultato e l'ottima prestazione non ci devono far dimenticare che le ultime mosse di mercato non sono ancora secondo me soddisfacenti completi come possiamo dire perché due tre pedine ancora vanno acquistate la rossa non è corta abbiamo molti giocatori ma secondo me abbiamo bisogno di almeno un paio ancora di giocatori di esperienza e già con l'arrivo di questi giocatori abbiamo visto notevoli differenze e un attaccante una prima punta secondo me è fondamentale grazie Gigi Manini Glamor Runway Style Fame She likes gossip She likes Boys Party Style Fame She likes Fame Siamo con il sorriso insieme al direttore di calcioternano.it Tommaso Maria Ferrante Ciao Tommaso Ciao buonasera a tutti Insieme a sempre di calcioternano.it Riccardo Tommasi Buonasera Buonasera a te e buonasera a tutti Iniziamo da Tommaso è chiaramente un 1-1 che ci fa piacere come abbiamo già sottolineato diverse volte per il risultato e soprattutto per la prestazione sia della squadra come sistema sia dell'individualità Sì, prima di tutto per i tifosi nel senso che abbiamo sentito incitamenti incessanti da parte di tutto lo stadio libero liberati i ragazzi sono usciti tra gli applausi e questo è un primo aspetto importante da sottolineare è stato bello colorato con le coreografie, insomma bell'impatto Per la prestazione 25 minuti direi strepitosi sotto tutti i punti di vista Dopo c'è stato probabilmente un calo, il mister diceva probabilmente anche un calo mentale anche forse fisico perché giocare con quell'intensità di gioco non era assolutamente semplice La Ternana ha sorpreso in positivo ci teniamo questo punto che poteva essere anche corroborato anche dalla vittoria perché fondamentalmente al conto delle occasioni la Ternana sicuramente ne ha avuto di più per un tifoso magari come me della Ternana potrebbe prendergli un colpo nel senso che giocare tutte queste partite e avere 10 occasioni da gol subirne magari 4-5 ogni partita non sarà facile perché probabilmente potrebbero poi maturare i risultati ancora più esagerati di un 1-1 Ecco, peraltro più occasioni sicuramente per la Ternana c'è anche una traversa per l'Empoli e quindi diciamo che tutto sommato il pareggio ci sta Riccardo si dibatte molto questa sera visto che sono andati tutti bene i giocatori della Ternana qualcuno anche molto bene su chi sia stato effettivamente il migliore in campo si parla di Finotto, si parla di Tiscione, secondo me sono andati molto bene anche i nuovi e si sono subito inseriti nel sistema di poche esci, la tua opinione? Ma io tra i migliori ci metto anche Paulucci, mi è piaciuto molto ha sbagliato qualche appoggio, è vero, però ha giocato un grande numero di pallone e ha messo una dinamicità che non mi aspettavo da lui ci metto anche lui fra i migliori in campo è ovvio Finotto ci entra di forza perché ha realizzato il primo gol in Maglia Rosso Verde il primo gol di questa stagione, ma devo dire bene un po' tutti anche Blizzard ha dato sicurezza al reparto ha fatto anche una parata importante su Caputo nel finale bene anche la difesa, non abbiamo avuto grandi svarioni a livello difensivo li abbiamo avuti forse più a centrocampo perché abbiamo dei frangenti di partita in cui i spazi si allargano tantissimo e prendiamo delle ripartenze che a parere mio è alla lunga in un campionato come quello che ha detto con attaccanti cinici rischi che ti comportano, due o tre gol presi a gara però per il resto sono andati tutti bene forse un po' in ombra Albadoro che non ha avuto una mezza occasione all'inizio poi nient'altro però dai a livello generale è una prova soddisfacente abbiamo creato molto molto più di quello che anche il più ottimista tifoso della ternata sarebbe immaginato secondo me quindi teniamoci questo punto che ci fa iniziare bene con un avversario che temevamo molto prima di questa gara e che invece davvero nella prima mezzuna abbiamo dominato a parere mio peccato non aver concretizzato più di quello che abbiamo fatto però forse il limite di concretizzare sarà quello che ci peserà di più ad oggi per me in questa stagione Ultimo giro di domande, ci siamo ovviamente fidati delle parole di mister Pokesci Tommaso, la crescita c'è ed è evidente si vede che anche i nuovi si stanno inserendo nel sistema appunto del mister secondo te si vede e quanto si vede in caso la mano dell'allenatore in questa squadra? Si vede perché nella fase offensiva sono dettami dell'allenatore ce l'ha detto fin dal primo giorno di precampionato quindi sono dettami insomma la tenana gioca a un calcio con gli inserimenti dei centrocampisti e c'è sempre il discorso della coperta corta perché magari rischi di perdere palle e quindi rischi di subire delle ripartenze che possono poi essere concretizzate dalla squadra avversaria in questo caso l'Empoli in almeno due o tre frangenti è arrivato all'ultimo passaggio non è riuscito poi nell'imbucata quando si inserivano soprattutto gli intermedi di centrocampo però si vede perché comunque sia è divertente vedere la tenana oggi ci siamo divertiti però ripeto sì è stata una bella serata però ripeto per uno sportivo che vede la partita su Skype benvenga per un tifoso magari un pochino meno nel senso che comunque la passione ce la metti insomma non sarà un campionato tranquillo però sarà effervescente ecco indubbiamente ancora c'è da lavorare c'è da lavorare Riccardo probabilmente anche sul mercato in queste battute finali che cosa serve secondo te a livello proprio appunto di cose indispensabili alla tenana ma rispetto a dieci giorni fa la situazione è nettamente migliore gli acquisti di questa settimana comunque si hanno portato qualità esperienza e anche numeri a livello di quantità di giocatori nei vari reparti sarà banale però probabilmente serve quel centravanti che ti garantisce sulla carta almeno una quindicina di gol lo diciamo sempre per salvarti in serie B probabilmente quei 40-45 gol servono per valori teorici secondo me non ci sono in questa rosa 40-45 gol poi prendi la punta di nome magari non te li fa però se le squadre investono sui centravanti quindi principalmente storicamente nel calcio un motivo ci sarà penso serva a quello principalmente alla Ternana vediamo se arriverà in questi ultimi giorni di mercato l'attaccante oppure meno e secondo me ecco per il resto non vedo un ruolo molto scoperto sui portieri è stata fatta la scelta dei portieri tutti i giovani Blizzeri al momento sta offrendo ottime prestazioni perciò forse è quello l'unico reparto che manca la prima trasferta della Ternana è subito tostissima a Salerno poi si torna liberati contro il Cesena grazie agli amici di OnTV per essere stati con noi